benvenuti al centro sportivo più undicesimo per questa finalissima di clericus cup tra le due formazioni pontificio collegio urbano e sedes sapiente fatto il prontopiede il settore sappiamo che il numero 19 formato dal capitano alla catturale rimane lì il capitano ospite che lancia numero 10 entra in aria può tirare tiro parato del fortiere che blocca fortierone numero 10 baggi movimento in aria a parte respirante palla deviata dal limite il numero 8 con un grandissimo tiro prova per prendere il potere dalla distanza ma palla a lato addidi diciassettesimo numero del gioco calcio di punizione per il pontificio sulla battuta numero 8 addidi e numero 6 capitano che tenta lui il giro a giro palla alta di palla alta di palla ancora di lì allora si arriva sulla farsa che si fa si fa con sei in mezzo al campo all'aspera del potere davanti del numero 15 si allarga bene sulla genizza in aria numero 6 tiro paratissima del portierone allora qui è stato un attacco per poi va che punta la porta ma grandissima chiusura del numero 5 ma prima di lì ancora di lì va tiro a giro parata del portiere liberazione di conto pietre del collegio urbano palla in parco il palla in mezzo tiro fermato tocco di mano il calcio di rigore in favore del collegio urbano collegio urbano la battuta baggi numero 10 senegalese parte baggi tiro rete rete in vantaggio il collegio urbano braggissimo dall'undici metri numero 10 1 a 0 sempre la battuta baggi prossimo in mezzo la palla altissima non la prende numero 16 paratissima per il capitano tiro del capitano un globo che per poco non raddoppia le marcature per il collegio urbano un altro calcio di rigore assegnato dal direttore di gara simone patrizi questo intervento dell'estremo difensore ai danni del capitano globo si attende solo il fischio del direttore di gara parte baggi tiro rete scolato ancora lui 2 a 0 collegio urbano che allunga le distanze la distanza alla cristiana ronaldo 2 a 0 una volta ancora da funario che incusta questo pallone lancia in avanti per la punta guo guo attenzione il pallone rimane lì guo attenta il pallonetto tiro alto di un soffio vicinissimo ad accorciare le distanze il sede sapiente con guo caccia di punizione per il sede sapiente parte il capitano erandes secondo palo di testa per poco non segna il difensore numero 5 giustare sempre una difesa ancora persegatere passaggio in mezzo per globo la palla rimane lì globo tiro retto del tre balza 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 che chiude praticamente il match che c'è strada si fatto i due combattono palla rimane al venti rosso ancora il 17 obama sponda per a me sul secondo palo attenzione e Aracal tiro di Aracal parata via Francesco si attende solo il triplice fischio arriva adesso e possono festeggiare i ragazzi del collegio urbano per questa vittoria in questa finale 3 a 0 collegio urbano per la qualità la per la 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 Grazie a tutti.